Io ho visto che il Comune di Iberia da quattro mesi è pronto a dare una ingestione con le chiami, il panchetto delle istruzioni, la delibera del Consiglio Comunale e la delibera che impaga l'extra costo di gestione che poi tra l'altro probabilmente del 9% all'anno magari sarà neanche più necessario pagare tra due anni di questo che fanno anche il certo. Sì, siamo capaci, le chiedo anche l'ascolto. Io credo che questa è una cosa che è molto da essere dedicata e su cui ci stiamo arroberando da anni. Se invochiamo il paradosso, poi li possiamo invocare altri paradossi, perché un paradosso sta nel fatto che la comunità imperiese alla società AMAT che è partecipata dal Comune di Iberia per utilizzare i suoi impianti dovrà fior fior di quattrini, mentre al Comune di Taggia che ha messo a disposizione il proprio prodotto di righe l'acqua non viene dato nulla, così come tanti altri comuni, perché questo viene gratis.